Buongiorno a tutti. Eccoci a iniziare questa nuova rubrica nel mese di maggio che è quella centrata su ogni giorno con una icona. Perché? Perché pregare Maria vogliamo essere accompagnati e guidati dai nostri fratelli ortodossi. Vogliamo respirare un po' la loro fede, la loro devozione, le loro preghiere, la loro arte, in modo tale che noi riusciamo a comprendere come per loro Maria è una donna a tutto tono. Tanto è umana, tanto è divina. Allora presentiamo questa prima icona che è la madre di Dio Fedoroskaya. La nostra diocesi è gemellata con la chiesa sorella che è in Costroma e nel 1239 questa icona apparve su un albero in un bosco al principe di Costroma. Gli abitanti di Costroma avevano visto come il giorno prima un guerriero sfolgorante di luce simile al grande martire Fyodor Stratilate sembrava portare l'icona al principe. La sacra immagine più volte mostrò la sua forza spirituale e così è diventata ad agio ad agio la patrona della dinastia dei Romanov che la venera nella cappella del palazzo d'inverno a San Pietroburgo. Espressione del mistero dell'incarnazione è l'icona della tenerezza in cui l'atto redentivo di Gesù diventa una cosa sola con l'adesione e il sì senza riserve detto dalla madre di Dio. Il bambino che circonda il collo della mamma con le braccia e si protende verso il suo viso appare come il consolatore e il salvatore misericordioso. Le stelle che tradizionalmente la Vergine ha sul capo e sulle spalle sono un antichissimo simbolo siriaco della verginità ma formano al tempo stesso una croce disegnata sul corpo della Vergine. Allora vogliamo pregare tutti assieme dieci Ave Marie alla Santa Madre di Dio perché in questa giornata del primo di maggio aiuti tutti i lavoratori di questo mondo. Ave Maria piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Ed ecco questa preghiera bellissima ortodossa. Regina benevolissima, amica degli orfani e avvocata dei peccatori, guarda la nostra pena, nutri noi pellegrini. Tu che conosci la nostra miseria, liberaci. Noi non abbiamo altro aiuto tranne te né altra protezione e conforto che te, madre di Dio, conservaci e proteggici nei secoli dei secoli. Accogli le suppliche dei tuoi servi. O tutta pura, liberandoci da ogni afflizione. In te noi abbiamo la nostra unica ancora salda e sicura. Amen. Ricordo questa sera la preghiera alle ore 21 a Caravaggio per tutta l'Italia. E poi non dimentichiamoci oggi che è San Giuseppe lavoratore e che quindi è un po' il patrono di tutti i lavoratori del mondo. Affidiamoci anche a lui perché in questo momento di fatica sostenga tutti i nostri lavoratori. A tutti una buona giornata e un buon primo maggio.